Stefano De Martino smentisce i gossip e parla di Belen Verissimo ospiti, Stefano De Martino parla di Belen. Stefano De Martino smentisce tutti i gossip di questi ultimi giorni e parla della ex Belen Rodriguez e non solo. Il nuovo inviato dell'Isola dei famosi 2018, Stefano De Martino, che tra dieci giorni sbarcherà in Honduras, sarà ospite domani 13 gennaio nel salotto di Silvia Toffanin. Nell'intervista, in onda domani a Verissimo, su Canale 5, il ballerino napoletano si confida e racconta le sue impressioni sulla prossima avventura. Stefano De Martino verissimo. Stefano De Martino averissimo, per me fare l'Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. . Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti. . I gossip smentiti. . A Verissimo Stefano De Martino smentisce inoltre i gossip che lo vorrebbero fidanzato con la blogger Gilda Ambrosio, dicendo, sono single. . Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione. . Il ballerino riserva, però, parole d'affetto per l'ex moglie Belen Rodriguez dicendo, non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. . Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. . Ci saremo sempre l'uno per l'altra.